Museo archeologico Situato all'interno dello splendido edificio settecentesco di Palazzo Campana, il Museo archeologico di Osimo conserva notevoli opere d'arte quali la Madonna col Bambino e Angeli, scultura del XII secolo e l'incoronazione della Vergine Santi del 1464, politico dei maestri veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini e accoglie testimonianze della frequentazione epicena gallica e romana del territorio osimano. Di particolare interesse i reperti provenienti dal sito di Monte Torto e i corredi tombali della necropoli di Monte Cerno. Tra gli oggetti esposti di particolare rilievo la bellissima testa di vecchio della metà del I secolo a.C. e la stella funeraria romana dei due sposi.